Oggi il Signore ci dice cosa dire a nostro padre, come parlare con lui, la sua preghiera, la preghiera del Signore e ci mette in guardia perché i pagani, che hanno molti dei ma nessun padre, sprecano parole per pregare pensando che le proprie parole possano in un certo modo piegare il cuore della divinità, dell'idolo, ai propri desiderata le cose non vanno così, se io sono in Giappone dove vai nei templi e vedrai che suonano le campane, battono le mani perché in un certo senso bisogna svegliare la divinità, non esiste padre, Dio non è un padre, il Dio è qualcosa di totalmente altro è qualcosa che è al di là, più potente della natura umana, che può intervenire, può interferire nelle vicende umane ma non è un certo come un padre, quindi bisogna in un certo senso ringraziarselo, bisogna fare delle offerte eccetera per questo si pregano molte parole, per questo pregare molte parole in varie circostanze è indice di paganesimo, è indice di idolatria non è con le parole nostre, umane, che raggiungiamo il cuore di Dio fino a che lo aprono ciò che apre il cuore di Dio è un cuore umile, un cuore contrito, tale quale appare nel Vangelo di oggi un cuore contrito, umiliato, spezzettato di chi sa di essere il figlio di Dio e di chi nella Chiesa ha trovato questa stanza intima, questo segreto della propria realtà dove poterti erogare con Dio che guarda, è bellissimo quello che ho scoperto che sono tuo figlio, che sono stato creato da te ma non ce la faccio no, non ce la faccio papà papà non ce la faccio il Padre nostro è questo innanzitutto è la preghiera umile, perché autentica di chi desidera essere secondo la sua volontà cioè la persona meravigliosa, perfetta nella sua debolezza e fragilità che però è invasa dall'amore di Dio è invasa dall'amore del Padre per questo può vivere amando amando il nemico, amando chi li fa del male chi lo perseguita e siccome questo non lo possiamo vivere così tutti noi siamo stati ingannati e per questo la carne si ribella alla volontà di Dio la carne vuole obbedire a un altro Padre c'è un'altra preghiera insistente che preme dentro di noi perché avvenga il nostro regno sia fatta la nostra volontà ci sia dato il pane che noi esigiamo sia santificato il nostro nome come accadde a Babele facciamoci un nome e costruirlo una torre il Padre nostro, come se fosse il negativo di una foto descrive la nostra realtà la realtà del mondo di chi vive da orfano e quindi cerca costantemente una giustificazione dagli altri dita dalle circostanze che chi crede di essere Dio deve essere affermato come Dio dal mondo intero dalla storia, dai fatti, dalle persone e per il nostro dai al mio regno sono Dio si fa la mia volontà sono Dio non vive così, no? però la parola la predicazione che è amore infinito di Dio ci ha raggiunto e poi ha illuminato l'inganno perché tu sei infelice io sono infelice perché è una grande fregatura essere come Dio perché non lo sei perché non lo siamo e soffriamo infinitamente siamo come ti dà un anello al naso e poi ci tirano ci tirano ci tirano per fare quello che il demonio decide di fare vuole che noi facciamo dice abita nel peccato non faccio quello che vorrei ma quello che non voglio dice San Paolo perché non c'è mai una buona notizia senza annuncio di verità che Dio ti ama che Dio ha un'infinita misericordia di te significa che tu hai bisogno di misericordia ho bisogno di uno che ha un cuore pieno di compassione per la mia miseria un cuore capace di rigenerare il mio cuore se la Chiesa mi annuncia la misericordia è per collocarmi dove io sono e annunciarmi e mostrarmi e rivelarmi che lì arriva il manto di misericordia di Dio Cristo è morto per i nostri peccati è risolto per la nostra giustificazione è perché in effetti abbiamo così peccato da non avere più la capacità di vivere come figli di aver così sfregiato la nostra immagine di figli da dire padre nostro al demonio e compiere i suoi disbelli nella concupiscenza staccamento al denaro giudizi liti le chiacchiere di cui parla sempre Papa Francesco le chiacchiere i tettegolezzi le malvagità le calugne che noi diciamo così frequentemente è la nostra realtà di ogni giorno fratelli questo è amato da Dio quello che tu e io siamo scoprire questo è scoprirlo nella Chiesa dove la rivelazione della nostra realtà coincide con la rivelazione dell'amore infinito che Dio ha per noi che non ti giudica che non ti butta via che ti vuole bene che soffre è appassionato completamente al tuo destino lui non accetta che tu e io non viviamo da figli viviamo da orfani vendicando un sorriso scendendo a compromessi assurdi entrando nel canale del pensiero unico della moda per non essere lasciati fuori per non rimanere ai margini Dio veramente tramite compassione per l'unicità di ciascuno di noi così come siamo ci viene dato un posto dove sperimentare questo amore dove conoscere il perdono che è al centro del parale nostro il perdono Dio ci perdona questa preghiera è la preghiera del Signore perché il Signore che ha pregato nel Getsemani dove con la mia e la tua natura con la mia e la tua carne ha detto Abba questi peccati ci conducono nella morte non possiamo dire papà e questo è il vero problema di ogni uomo che non ha un padre a cui rivolgersi un padre che ha cura di lui per questo siamo frustrati abbiamo lì un grigo strozzato dentro a volte diventa suicidio quanti ragazzi si suicidano perché in fondo il demonio li ha convinti che il loro padre non li vuole bene che non c'è qualcuno di cui fidarsi che sono stati rifiutati così come sono che sono stati messi da parte emarginati a causa del loro carattere il demonio li ha gannati così e si farono la vita come ci trovano la vita molto volte tu e io in altri modi con altre alienazioni ebbene Gesù nel Getsemani con la sua carne con la mia carne dentro quella carne ha detto papà questa carne l'ha fatto fare un giro di 180 gradi ha messo lì dentro quella carne impotente a causa del peccato la parola padre ha aperto una breccia ha come iniziato la carne a vivere la figlia la figlia di Dio ma questo lo ha condotto alla morte si è prodotto come un cortocircuito di uno scontro frontale l'uomo vecchio incapace ribelle e l'uomo nuovo Cristo e questo ha condotto alla morte e in quella morte in quella tomba Cristo ha lasciato tutto il vereno ha lasciato l'uomo vecchio ha lasciato la morte tu e mia nella morte ha lasciato l'uomo morto l'uomo vecchio l'uomo che era già morto che è incapace di dire papà e di fare la sua volontà di amare e l'ha risuscitato e l'ha venuto da noi a dirci eccomi vado al padre mio e al padre vostro siccome con quella carne lui ha potuto dire padre mio e ha avuto ragione del demonio perché lo ha sconfitto allora può dire alla maddalena vai da tutti e di che salgo al padre mio e fare loro in quanto padre mio in quanto ho detto papà nel Gesemani loro possono dire padre nostro perché è già padre di una comunione già è padre di fratelli già c'è una natura nuova già possono ricevere la natura dei figli che si amano come fratelli dello stesso padre che sono stati perdonati graziati dallo stesso padre per cui è impossibile giudicare è normale invece perdonare se io ho conosciuto questo amore profondo di Dio per me così come sono se io ho conosciuto questo veramente nella chiesa nell'eucaristia nel sacramento nella confessione nella vita con la carne di Cristo che sono i fratelli se io veramente ho sperimentato che Dio mi ama così come sono fatto risuscitare gratuitamente perché si risuscita solo gratuitamente solo chi è morto può risuscitare ma un morto non può fare nulla per risuscitare quindi è gratuito quindi non hai fatto nulla solo sei stato amato graziato perdonato se hai questa esperienza che hai cominciato a muovere i primi passi di un neonato in Cristo la vita nuova non puoi giudicare nessuno perdonerai e comincerai a gridare papà papà non più il mio regno ma il tuo papà che non regni io che non regno nelle mie idee a casa in famiglia al lavoro nella comunità cristiana il tuo regno regna tu tu sei il re tuo figlio Gesù Cristo è il regno è l'amore è la misericordia è la pazienza è la tenenza signore non voglio più regnare io che non regni più il demonio regno io regni tu signore né il demonio né io tu il tuo nome non il mio nome che sia santificato cioè che io possa vivere nella comunità cristiana separato nel mondo ma non del mondo cioè che sia santificato il tuo nome in noi in me nei miei fratelli nella mia vita il nome di Antonello il prete il predicatore non so l'ingegnere oppure non sa che cosa no che sia santificato il tuo nome la tua presenza dentro di me dentro la mia comunità cristiana il tuo nome si è messo da parte perché il mondo possa capire e sperimentare e vedere che esiste la presenza di Dio che Dio esiste dammi oggi il tuo pane il pane dei figli che è la volontà di Dio come dice Gesù che è Cristo stesso fatto volontà da mangiare perché possa nutrire la mia anima signore che io non viva soltanto di pane materiale prestigio eccetera no che io viva del tuo pane di quello che tu mi dai ogni giorno dammelo dammi questo pane che mi permette di dare che si compie nella tua volontà e non la mia in questo Abba papà non la mia ma la tua volontà lo so lo so guarda oggi c'è un calice terribile da bere guarda oggi c'ho questa riunione guarda oggi c'ho le analisi guarda oggi mamma mia come si è svegliata mia moglie mamma mia come si è svegliato mio marito mamma mia mio figlio oggi ho scoperto che mio figlio è malato oggi ho scoperto di essere malato io oggi ho scoperto che mi hanno rubato un sacco di soldi sulla pensione non lo so quello che sarà oggi non lo sappiamo non voglio questo calice ma è la mia volontà ma è la tua donami di bere questo calice col tuo figlio io voglio dire che il figlio lo voglio non posso sono incapace aiutami e perdona i miei peccati perdona ancora prima che io li compio come dicevano molti santi San San Teresa Davide per esempio perdona cioè aiutami aiutami a non peccare non mi spingere fino al limite sono debole se tu mi spingi fino lì al limite nella tentazione io cado come un cretino come Adamo e perdo nuovo questa dignità filiale esco di nuovo di casa aiutami fammi stare dentro nella comunità nella comunione della Chiesa che mi salva perché la figlia della Chiesa vince il mondo e liberami dal male dal maligno da questo veleno che mi ha distrutto che ha distrutto la tua natura dentro di me che mi ha fatto vivere come un vagabondo come un orfano per tanto tempo e che oggi mi tenterà per vivere ancora di nuovo all'angolo di una strada a chiedere l'emosina magari comunque il compromesso affettivo per rubare due soldi in più o un passo in più sulla carriera o per fare bella figura davanti a quella persona proteggimi proteggimi difendimi perché se questo si compie in me posso perdonare come tu mi perdoni cioè posso essere immagine e somiglianza a tua perdonare come tu mi perdoni vuol dire vivere come tu sei figlio perché tutti possano avere di nuovo una porta aperta verso il loro destino chi viene accanto a noi chi vive accanto a noi possa di nuovo sperare al di là delle etichette di destra di sinistra di questo di quell'altro no tutti creati da Dio per essere figli per vivere da figli amare secondo la sua volontà tutti in Cristo possono uscire dalla condizione di orfani per tornare a quella di figli di Dio e che camminano guardando al cielo e dicendo costantemente papà papà prendimi per mano abbà papà tringimi papà la tono sulla mia testa ebbe misericordia di me ti voglio bene papà grazie a tutti